ed ecco il nostro coraggioso e pavido eroe che fosse come pirla si cimenta nel via di india nel trial variante malesia lo chiamano così abbiamo qualche problema tecnico ed ecco un altro toio che arriva come potrebbe diventare il mio padre bella 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 Allora, cagate in braga, Yoshi! Atenzione, oh via! Discesona, zona 1... Atenzione, si danno il bacino. fermo un attimo fermo un attimo passo per dentro ed ecco cosa si dovrà affrontare vediamo un po patrullone in patrullone un po patrullone in patrullone ecco lo che va ecco il nostro eroe ecco un'altra macchina seria finalmente l'altra bandiera americana non sta a spalancar massa perché siccome l'altro quasi l'altro quasi il nasce a giù